Buonasera a tutti, sono Carlos della provincia di Milano. Questa è una video recensione dell'aspiratore Gemi per cammini. Vi dimostrerò come l'aspiratore è molto utile anche, soprattutto all'inizio, nell'accensione del camino. È utile per la mancanza di fuoriuscita di fumi e odori fastidiosi e per la sua praticità, che ha ridotto un sacco di problemi legati alla cattiva aspirazione di un camino. Adesso vi farò vedere, posizionando l'apposito interruttore in posizione 3, accendendolo, come è semplice innescare la fiamma nel camino. Con un apposito accenditore, posizionato in mezzo ai legni, Adesso abbasseremo la saracinenza completamente e in pochi minuti avremo una splendida fiammata. Lo mettiamo al minimo e aspettiamo qualche secondo Allora, l'utilità dell'aspiratore Gemi è quella di non fare uscire il fumo negli ambienti circostanti. Una volta accesa la fiamma, possiamo fare uno splendido barbecue. Quando avremo la braccia, solleveremo la serranda, anche completamente, e potremo cuocere carne, salsicce o quello che vorremmo. Qualora ci fosse una fuoriuscita leggera di fumo, aumenteremo la potenza dell'aspirazione. Come vedete, in un secondo, senza l'utilizzo di piccoli legnetti fastidiosi, anche posizionando grossi ceppi, il camino prende vita. Vedete, dopo solo i cinque minuti abbiamo un camino funzionante al 100%. Vi saluto, vi ringrazio e soprattutto ringraziamo il nostro accenditore.